Cerca, ricerca l'anima gemella, principe risparmio segue la sua stella. Contro draghi e potenti maghi, lotta per incantati moschi e laghi. L'ultima prova affronta con coraggio, fiere o audace, compie il salvataggio. Principessa qualità libera ormai, il suo cuore gli dona felice più che mai. L'amor trionfa con sincerità, uniti son per sempre risparmio e qualità. Di Amora hanno trovato, così anche calore, da Gibbini han creato i saldi per amore. Gibbini Calzature e a Piavia Nievole, aperto anche la domenica. Arrivano i saldi da Gibbini Calzature e la regola è sempre la stessa. Chi prima arriva, meglio alloggia. L'assortimento è ancora grande, ma ogni giorno che passa i numeri e i modelli diminuiscono. Venite presto a Piavia Nievole perché solo così potrete scegliere al meglio. E non dimenticate che i saldi li trovate anche nel reparto borse e piccola pelletteria, con occasioni straordinarie. Perché da Gibbini Calzature facciamo i saldi per amore. Cari amiche che ci seguite da casa, è ora il momento di fare gli acquisti. Venite a trovarci perché troverete veramente di tutto. Dal décolleté elegante per uscire, il tronchetto, lo stivale, lo stivaletto, la scarpa sportiva, la scarpa con il plantare e anche i numeri grandi da donna fino al 44, tutti scontatissimi. Gibbini Calzature, fai saldi per amore. Con i nostri saldi non ci siamo dimenticati neanche di voi maschietti a casa, eh. Abbiamo pensato anche a voi, con tantissimi sconti. Sia per il ragazzo giovane che voglia la scarpa di tendenza, sia anche per l'adulto professionista che ha bisogno di una scarpa comoda per stare fuori tutto il giorno. E anche per voi nonni c'è tanto assortimento, ci sono proprio le scarpe che a voi piacciono. E i numeri grandi, anche quelli a sconto, a prezzi imperdibili. Ormai non possiamo fare a meno che parlare della nostra offerta TV. Ce la chiedete in continuazione. Le Nike Blazer sono quasi terminate, ci sono pochi numeri. Ed è per questo che per accontentarvi abbiamo esteso la nostra promozione con un prezzo speciale che è 59 euro, anche le Nike Bruin. E poi anche nel nostro vasto assortimento sportivo ci sono tantissime offerte imperdibili. Si sta male con i piedi freddi. E voi volete lasciare i vostri bambini con i piedi freddi? Eh no, è ora il momento di venire a comprare le scarpe qui da noi. Perché ci sono i saldi e quindi vi potete permettere tutto tutti. Vi dico qualche marca. Ciao bimbi, Didi Blue, Geox, Lely Kelly, Nike, Naturino, Primigi. Insomma, venite perché Gibini fa i saldi per amore. Ricordate che trovate anche il reparto pelletteria, con borse, cinture, portafogli e tantissime valigie. Vi aspettiamo a Pievanievole, sulla via Empolese, a 500 metri dall'uscita dell'autostrada di Monte Cassini Terme, direzione Monsummano. Gibini Calzature, saldi per amore!